Da oggi mi hanno detto pagamento. Quindi ha dovuto pagare? Non ho ancora pagato perché neanche loro sanno come funziona il sistema, ma pagherò, mi hanno detto. Sempre in ospedale stiamo facendo un monitoraggio, fa bene a tutti, a meno in ospedale magari gratuito. Fanno bene perché così magari aiutano, convincono gli scettici a vaccinarci. Non sono d'accordo per quelle persone che magari hanno già l'appuntamento per la vaccinazione e fanno appunto magari dei lavori a stretto contatto con il pubblico, quindi sono costretti a farlo ogni 48 ore e ad oggi lo devono pagare. Per il tracciamento dei casi rimane la gratuità del tampone e per ottenere l'esenzione al pagamento occorrerà un certificato del medico curante che comprovi l'effettiva necessità di fare il tampone. Sono 8 euro negli under 18, tra i 12 e i 18 anni, 15 euro in soggetti adulti, fino ad avere un massimo di 22 euro per gli stranieri, insomma quelli che lo fanno per motivi di viaggio. Ho dovuto fare i salti mortali, 3 ore di presentazione al medico per l'impegnativa, per averlo esente ticket. Mi hanno costretto a farlo. È un'ingunzione, un ricatto, un atto di forza. Grazie. Grazie.